è un onore avere qui con me oggi eh Maurizio Boiocchi e Letizia Senisi oggi l'argomento come avete visto in in programma è insieme oltre la crisi idee proposte per superare la frammentazione dell'offerta Italia allora ieri a quest'ora avevamo il professor Stefano Marchioro che ci ha dato un'opinione alta dal punto di vista appunto cattedrale oggi abbiamo un'associazione associazione turismo per l'Italia ehm il presidente Stefano Crugnola si scusa ma eh come sapete insomma in questi periodi la salute diciamo in questo momento non può essere non può essere presente ed è sostituito da Letizia Senisi che fa parte del consiglio direttivo dell'associazione Letizia tra l'altro molto brava e molto nota per il turismo di radice allora fra un attimo darò la parola al professor Maurizio Boiocchi che sarà un po' il presentatore e l'intervistatore di associazione turismo per l'Italia eh che si prestigie di aggregare aggregare la filiera mettere insieme unire e quindi è molto in linea con i temi di questa nostra trasmissione protagonisti e territori organizzata appunto da Artes che ha queste tre elementi chiave innovazione collaborazione e relazione relazione ovvero un nuovo tipo di accoglienza centrata sulla persona che è il timbro che vogliamo dare al turismo diciamo eh sempre di più al turismo che che ci aspetta eh in questa ripartenza allora ehm grazie ancora allora a tutti voi che state ascoltando questa trasmissione do la parola al professor Maurizio Boiocchi che eh dirà qualcosa di introduzione e poi avrà inizio questa intervista a te Maurizio grazie Maurizio insomma tra Maurizio ci scambiamo le cortesie buongiorno buongiorno a tutti grazie a tutti gli ascoltatori in questo momento in linea eh prima di tutto un ringraziamento un ringraziamento al presidente di Artes Maurizio Testa che ci ha permesso di essere oggi presente qui con voi in un incontro che riteniamo essere assolutamente fondamentale per quelle che sono le proiezioni del mondo del turismo in un periodo eh come dire assolutamente difficile e siamo veramente onorati di essere presenti in questa manifestazione in Vitex che è chiaro da questo punto di vista porta avanti un'attività assolutamente meritoria perché Vitex è una delle manifestazioni in assoluto più interessanti del mercato fieristico italiano e siamo certi che eh anche la nostra il nostro contributo possa dare una visione di quelle che è in questo momento il concetto dell'associazionismo un concetto molto importante per quanto mi riguarda io appunto sono un docente di marketing e comunicazione di impresa dello Iulmo poi l'opportunità anche di lavorare con altre scuole di formazione professionale in Italia e quindi mi piace indubbiamente parlare sempre di turismo lo faccio da tantissimi anni ma oggi sono particolarmente contento perché ho l'opportunità di parlare di questo con una persona estremamente preparata valida che è la dottoressa Letizia Sinisi eh che nel cambio della situazione non avendo Stefano Crugnola il presidente o comunque Letizia Sinisi che è la segretaria organizzativa e responsabile dei rapporti internazionali una bella signora con la quale sarà un piacere poter colloquiare Letizia e scambiarci delle opinioni in questo senso quindi benvenuta Letizia buona giornata anche a te. Buongiorno buongiorno a tutti grazie ehm ad Artes per eh l'invito per l'opportunità di parlare di turismo per l'Italia eh saluto il presidente che sto sostituendo il presidente Stefano Crugnola e tutta la squadra dei soci fondatori eh di associati della nostra associazione. Buongiorno a tutti. Grazie Letizia. Allora abbiamo questa bella maggioretta abbondante poi sollecito chiaramente i nostri ascoltatori a farci delle domande e quella la parte che forse ci piace di più da questo punto di vista. Allora siamo in un periodo Letizia molto particolare un periodo in cui purtroppo viviamo una fase estremamente delicata una fase che ancora non ci dà certezze in quelli che sono gli sviluppi futuri della ripresa anche di carattere economico ecco io andrei oggi un po' su questa tipologia appunto di argomento eh nascono tante associazioni forse ultimamente sono nati tante associazioni ma ce n'è una in assoluto quella che tu rappresenti che voglio dire è qualcosa di particolare la domanda molto semplice io l'avevo posta e già in essere l'avrei fatta al presidente la faccio a te con estremo piacere ma Letizia perché nasce l'associazione turismo per l'Italia e quale innovazione porta nello scenario turistico attuale a differenza magari di altre organizzazioni? Allora turismo per l'Italia nasce durante il periodo covid ma non nasce per il covid nasce come idea eh nella mente del nostro presidente Stefano Crugnola già anni fa quando lui eh è stato coinvolto nella nella programmazione del ministro centinaio eh nella eh creazione eh nel far parte appunto della consulta tecnica nazionale eh nasce con eh la competenza eh con l'idea di portare qualità competenza nel mondo del turismo ma non solo nasce non come eh associazione di categoria bensì come associazione di eh rappresentanza dell'intera filiera turistica l'innovazione sta anche nel coinvolgere persone fisiche l'associazione turismo per l'Italia ehm intende dar voce alle persone fisiche più che alle realtà alle aziende alle imprese eccetera questo non significa che non si creino delle collaborazioni con associazioni con altre realtà eh imprenditoriali piuttosto che associative ma eh noi intendiamo dar voce a tutte le figure professionali anche quelle non rappresentate oggi ufficialmente e questa è la novità l'innovazione rappresentare l'intera filiera del turismo da mh dal dall'autonoleggio a al all'imprenditore alberghiero piuttosto che allo stesso direttore di sala quindi tutta la filiera aggregata in una sola voce. Questo dunque voglio dire molto innovativo no mi sembra di capire perché è la prima volta forse in Italia che c'è l'opportunità di avere un'associazione che cerca di aggregare un intero comparto quindi questa è un po' la missione che vi siete posta voglio dire nella nella vostro intendimento no di sviluppare l'associazione e a livello di vision Letizia come vedi l'opportunità di sviluppare soprattutto forme di collaborazione e in quale modo queste forme di collaborazione potrebbero essere poi evidenziate nel prossimo futuro? Ecco partiamo da eh i nostri interlocutori quindi noi intendiamo ehm relazionarci a tre livelli quindi con le istituzioni con gli operatori turistici e con eh gli stessi viaggiatori e anche questa è una innovazione perché diciamo che il alla fine della filiera anche il senso dell'intera filiera turistica è soddisfare in maniera ehm eccellente cioè qualitativa un eh consumatore che sia italiano o straniero e quindi il viaggiatore come protagonista di questa diciamo dell'offerta turistica quindi Letizia potrebbe essere una sorta perdonami se ti interrompo di catena del valore da questo punto di vista cioè assolutamente qualcosa di assolutamente importante che ha un fine poi di carattere economico come tu ben sai e quindi può proiettarsi in una dimensione per la prima volta in cui anche il fruitore del servizio che è la parte finale di solito di questa filiera di questa catena del valore possa avere comunque voce in capitolo ed esprimere anche la propria opinione questo è assolutamente innovativo penso a livello nazionale non solo a livello internazionale essendo tu persona che ti occupi chiaramente di prospettive di rapporti internazionali però in Italia penso sia assolutamente la prima volta questo è ehm è giusto parlare della filiera dell'intera filiera della catena di valore perché noi vogliamo appunto creare valore ma un valore che passi anche dalla stessa formazione del eh non solo della filiera turistica eh quindi di tutte le figure professionali ma anche dello stesso viaggiatore che spesso non è consapevole di alcune dinamiche di alcune logiche che potrebbero salvaguardarlo meglio rispetto a scelte affrettate oppure diciamo eh non consapevoli diciamo diciamo così quindi eh la collaborazione all'interno della tra le finalità della dell'associazione la collaborazione tra le figure tra ehm i vari livelli è fondamentale perché l'associazione di per sé formalmente eh intende anche rappresentare verso le istituzioni infatti ci stiamo dotando di un organo legislativo all'interno che possa eh interpretare adeguatamente le istanze che eh ci ci saranno rivolte da gli organi che stiamo costituendo come la consulta tecnica che appunto è fatta da è costituita da figure professionali tecniche del turismo quindi eh da vari temi dal turismo organizzato ai balneari eh eh alle guide agli accompagnatori cioè tutta la la filiera tecnica così come il comitato delle regioni che va poi ehm sui territori a costituire dei veri e propri gruppi di lavoro da cui eh di cui faranno parte anche le figure tecniche e che porteranno istanze che l'associazione andrà a rappresentare e rendere vere e proprie eh modifiche alle normative piuttosto che eh richieste di audizioni parlamentari tant'è tant'è vero che eh siamo tra le associazioni che il senato ha coinvolto come ehm diciamo osservatori ma anche ehm come consulta come come ehm organo organo tra gli organi che possano eh rappresentare eh e dare dei riscontri su eventuali eh normative o leggi che possono essere eh proposte in campo turistico. Quindi una strutturazione mi sembra di capire Letizia assolutamente importante assolutamente pesante strutturato organizzata voglio dire non una semplice associazione ma è un'associazione che prevede la partecipazione di varie entità mi sento di dire che conoscendoti da anni tu hai messo forse anche del tuo nella tua valutazione nella tua competenza di carattere manageriale perché eh per come la stai presentando effettivamente la strutturazione è una strutturazione importante organizzata direi quasi manageriale se mi concedi questa questo tipo di osservazione. Beh eh le finalità dell'associazione sono finalità ehm importanti perché è importante il turismo. Il turismo è sempre è sempre stato definito eh la prima industria italiana e eh lo è stato il duemiladiciannove è stato un anno d'oro per il turismo ma ehm il turismo risente eh di alcuni pregiudizi o comunque non risente eh della giusta valorizzazione di tutti coloro che consentono poi al turismo italiano di essere quello che è anche agli occhi del mondo. Quindi eh non non si poteva che pensare ad un'organizzazione ehm quasi ecco come ben dici manageriale è un'organizzazione che mh potesse eh raccogliere in maniera strutturata eh tutte le rappresentanze che intende eh ascoltare, che intende rappresentare e quindi diciamo sicuramente ehm essendo questo eh obiettivo estremamente ambizioso perché il turismo è veramente un settore molto variegato e frammentato al momento eh la collaborazione, l'innovazione e la collaborazione non poteva che passare dalla relazione interna strutturata è eh organizzata. Bene. Certo, quindi queste le tre parole chiave che ci ha voluto suggerire anche Maurizio Tessa all'inizio, tutto proiettato nel futuro, tutto proiettato a livello anche di territorio. Ecco, da questo punto di vista eh Letizia, eh l'importanza di un'associazione come quella di appunto di turismo di turismo per l'Italia, proiettata a livello nazionale, proiettata a livello internazionale, la figura degli attori che ne fanno parte. Io immagino in questo momento abbiamo in linea parecchie persone che fanno parte appunto del comparto del turismo eh parlando in modo molto ampio. Hai dei suggerimenti? State valutando delle situazioni? So che ci sono nuove iniziative molto importanti per coinvolgere proprio i singoli attori da questo punto di vista. Certo. Allora intanto eh come si diceva stiamo eh costruendo un'organizzazione cioè degli organi veri e propri che sono appunto la consulta eh tecnica e il comitato delle regioni. L'obiettivo eh che ci siamo dati anche perché i soci, tutti i soci fondatori eh rappresentano ehm essi stessi delle eh peculiarità, delle specializzazioni tra cui eh la formazione che noi porteremo eh stiamo già valutando non solo agli operatori turistici perché ci possa essere una riqualificazione eh possano nascere nuove eh professioni in ambito turistico anche per questo periodo post covid in cui tanto è cambiato in cui l'umanizzazione delle tecnologie ehm è quello che viene viene richiesto. Quindi l'umanizzazione significa prima di tutto eh andare a creare ehm una filiera più consapevole, più responsabile, un per un turismo ecosostenibile, per un turismo di prossimità e tutto quello che praticamente ehm fa sì che eh possa ehm fornire eh sia in Italia che all'estero un'offerta eh differenziante ma eh unica in questo contesto. Noi da italiani eh abbiamo anche diciamo la eh il privilegio di poter ehm vendere tra virgolette eh anche le nostre origini quindi eh le nostre origini millenarie di una cultura che eh trova le sue radici negli etruschi, nei romani, insomma tutto quello che fa nel mondo ehm il made in Italia per cui noi oggi eh ci stiamo strutturando per partire dalla situazione attuale, riqualificare l'offerta e creare anche un modello che per l'estero possa essere un esempio. Tanto è vero che non solo ci rivolgiamo agli italiani all'estero ma non solo ai residenti o discendenti che vorranno e non vedono l'ora di tornare in Italia, di far sì che arrivino con trovando una proposta qualificata e trovando anche dei modelli nuovi di eh presentazione e di esperienza nel territorio italiano. Ma ci rivolgiamo anche agli operatori turistici stranieri. Tanto è vero che ehm siamo stati anche eh avvicinati da realtà straniere in primis europee, che ci guardano come un nuovo modello, guardano turismo per l'Italia come un nuovo modello associativo per il rilancio. Infatti noi questa parola eh la utilizziamo sia per progetti veri e propri su cui ci stiamo già cimentando per il rilancio del paese ma eh insieme ad altre realtà con cui stiamo già parlando e mettendo giù dei tavoli di lavoro ci eh occupiamo anche del rilancio europeo. Quindi ehm per rispondere, diciamo per sintetizzare eh la risposta alla tua domanda, noi stiamo partendo da noi, quindi partendo dall'Italia per diventare un vero e proprio modello per l'Europa e per il mondo internazionale e prepararci alla ripresa in conforme nuove che come Artes insegna hanno al loro interno aggregazione, innovazione, collaborazione, relazione fondamentalmente. Certo. Grazie Letizia. Eh ti chiedo adesso di eh svestire un attimino il ruolo che tu hai voglio dire di ehm come dire di segretaria organizzativa responsabile dei rapporti internazionali eh di questa associazione. Ti vorrei eh come dire chiedere di darci possibilmente una tua interpretazione personale al di là dell'appartenenza dando magari se possibile quello che è il tuo punto di vista, un punto di vista magari condiviso anche ma non necessariamente all'interno dell'associazione per capire effettivamente cosa si dovrebbe fare comunque nel futuro. È un pochettino così una proiezione onirica se vuoi eh quali politiche, quale evoluzioni, quale situazioni proprio per capire dove stiamo andando e come potremmo migliorare anche dal punto di vista poi dell'organizzazione, delle relazioni in un mondo che è quello politico estremamente importante in Italia che in questo momento è chiaro che risente di una problematica di tarattere contingente o tra quale è molto difficile andare. Sappiamo che è un impegno estremamente gravoso. Però sarebbe interessante un tuo punto di vista soprattutto eh come dire proiettato a livello nazionale ed internazionale proprio per 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 scusami voglio sfruttare un po' la tua cultura di management di carattere internazionale per capire quindi nella proiezione futura come potremmo fare a livello generale di politica e comunque di visione di carattere economico. Ok. È una domanda un po' articolata e un po' complicata me ne rendo conto ma è una tua visione appunto extra appartenenza all'associazione. Grazie per questa domanda mi dà modo così di di riepilogare un po' di riflessioni perché diciamo anche nel rapporto con le realtà internazionali si parla spesso utilizzando questo termine riflessioni. Stanno facendo le riflessioni come giusto in un tempo di di grande cambiamento. Eh io sono convinta che essendo il il comparto turistico uno di di quelli più danneggiati in assoluto eh dal dal covid eh si possano veramente creare delle grosse opportunità. Quindi eh dalla rivoluzione che stiamo vivendo ci sarà sicuramente già ci sono i primi sintomi una grossa evoluzione. Da un punto di vista eh politico eh locale diciamo nazionale ehm diciamo non possiamo più permetterci la frammentazione che vi è stata nel turismo fino ad oggi. Eh diciamo che essendo noi un popolo di italiani eh abbiamo eh siamo un popolo fondamentalmente di artigiani e di eh agricoltori e pescatori fondamentalmente. Cioè nel nostro DNA noi abbiamo questo. Che significa artigiani? Artigiani significa che eh ogni artigiano guarda al proprio operato per creare qualcosa di unico, di eccellente ma eh migliore dell'altro eh migliore del concorrente. Oggi noi vediamo abbiamo assistito ad uno scenario in cui le regioni hanno eh in cui praticamente si sviluppa poi la gestione turistica amministrativa del turismo le regioni hanno sempre ehm ehm si sono hanno fatto concorrenza l'uno all'altro cioè non hanno collaborato per una eh offerta nazionale. Noi dai primi eh tavoli di lavoro con la consulta tecnica e quindi con l'ascolto eh della degli operatori abbiamo già individuato una forte necessità di offerta dell'Italia. Quindi eh prima di tutto eh lavoriamo per ehm far emergere l'unicità dell'offerta italiana nella diversità delle regioni. Cioè il fatto che le regioni possano offrire una miriade di eh di di possibilità di esperienze eh tutte diverse l'una dall'altra è come avere venti regioni, venti italie. Non vuol dire che l'offerta italiana possa rimanere frammentata o con ehm la concorrenza tra le regioni come quella che c'è stata finora fino fino al covid. Perché l'unione fa la forza, la collaborazione fa la forza. Quindi noi miriamo ad avere una eh visione unica dell'Italia pur nelle diversità e nella ricchezza dell'offerta eh regionale. Quindi questo intanto è un obiettivo. Non si può più ragionare in maniera frammentata ma si deve ragionare a sistema. Il sistema e il sistema Italia. Eh il sistema Italia che poi di conseguenza vedrà anche nelle normative, negli aiuti eh nelle negli interventi dello Stato eh guarderà all'Italia, al turismo come una grande impresa. O cosa che oggi non avviene. Perché eh c'è grande frammentazione non solo a livello regionale ma anche a livello comunale. Cioè è e soprattutto eh non non è rappresentata l'intera filiera. Eh ma eh sono rappresentate le categorie. Solo le categorie quelle più forti, quelle più numerose. Cioè quindi questa è già una grande sfida che ci aspetta. Agli occhi del mondo noi siamo agevolati dall'essere visti come unico paese europeo eh europeo si può dire perché dall'esterno soprattutto dall'oltreoceano ci guardano come ehm Europa in primis di cui noi facciamo parte. Ma l'Italia ha un appeal particolare. Un appeal che deriva da una bellezza, da una storia di eccellenza, dal nostro savoir faire, dal da termini che ormai si sono consolidati e che sono l'Italian life, l'Italian way, l'Italian lifestyle, cioè lo stile di vita. Io ho fatto recentemente una o un'intervista nella mia attività così in cui mi hanno detto ecco il dolce far niente a noi piace dell'Italia, il dolce far niente. Ma loro lo dicevano degli americani diciamo il dolce far niente come se fosse così un modo di dire eh che un americano si permetteva. E io ho detto bene il dolce cioè il ben vivere probabilmente, il saper vivere eh piuttosto che la qualità della vita. Ecco noi siamo il eh insieme al Giappone il paese più longevo del mondo. Eh quindi eh adesso togliamo ecco quando ci meravigliamo di quanti anziani anziani purtroppo eh sono colpiti da dal covid e stanno morendo perché noi siamo anche un paese con un altissima percentuale di anziani rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. È chiaro che siamo più colpiti perché abbiamo eh un modo di vivere una dieta, la dieta mediterranea, cioè nel nostro, nei nostri geni c'è una bellezza, viviamo nella bellezza e noi oggi possiamo far leva proprio su quello perché nel post covid la parola chiave che anche molti sociologi così di cui stanno scrivendo molte ricerche parlano di ben vivere, il ben vivere, ben essere inteso come ben vivere. Quindi eh noi abbiamo la possibilità di insegnare questo. Abbiamo la possibilità prima di tutto di essere consapevoli di questo perché quando io parlo di questi argomenti in alcune sessioni formative sulla l'arte di emozionare per esempio che noi abbiamo abbiamo gli strumenti per farlo e non tutti lo comprendono. Quindi prima di tutto gli italiani devono rendersi consapevoli di quello che è una ricchezza che si può trasmettere e poi questa va trasmessa all'estero. Paradossalmente ehm è come se l'Italia, l'altra Italia, quella che è fuori dall'Italia eh fosse il nostro eh alter ego che ci guarda come un sogno ma noi non sappiamo di essere quel sogno. Certo quindi noi viviamo una posizione come dire assolutamente importante, interessante ma non ce ne rendiamo conto, non ci rendiamo conto della nostra ricchezza, della nostra cultura, delle nostre situazioni. Mi annotavo eh questo particolare interessante. Letizia tu hai parlato così del del concetto emozionale no? Ecco perdona vorrei rubarti ancora in questa ultima fase della nostra chiacchierata un po' eh questa questa interpretazione perché te lo dico perché eh abbiamo con noi chiaramente il presidente che ci ha che ci ha introdotto. Presidente tu sai che è uno dei leader italiani per quanto riguarda il turismo esperienziale però tu stai ponendo invece adesso l'attenzione su un concetto che è quello del turismo emozionale e allora io quasi provocatoriamente non ne verrà ma non ne vorrà il presidente Maurizio Testa però penso sia importante che tu possa proiettare anche questa nuova dinamica voglio dire di una forma di turismo assolutamente importante poi però una domandina da farti magari l'ultima domanda sui giovani perché tu hai parlato della delle persone anziane eh io sembrerei far parte di quelle persone essendo un over sessanta poi in realtà non si capisce se devi averne più di sessantacinque o meno molti dei nostri amici magari saranno anche loro come me in questa situazione ma vorrei farti una domanda sui giovani però permettemi ecco questa interpretazione tua in proiezione futuro del turismo emozionale di cosa stiamo parlando Letizia? Allora partiamo dal turismo esperienziale no? Di cui Artes è esperta che ha fatto eh diciamo scuola e continua a far scuola sul turismo esperienziale che è diciamo ha preparato un po' il terreno perché come tutte le mentalità eh cambiare una mentalità quindi anche acquisire consapevolezze nuove richiede tempo ehm il tempo che noi ci prendiamo sempre c'è anche gli italiani no? Lo slow la lentezza perché quel tempo consente di assimilare meglio i concetti anche di viverli quindi l'esperienziale ehm è un po' vivere esperienziale viene dalla parola esperienziale quindi qualche modo eh fare esperienza toccare con mano toccare con mano e eh l'emozionale va oltre questo concetto nel senso che parte dall'esperienziale e va sull'emozione l'emozione è l'emozione per suppone un movimento quindi quella vibrazione dei sensi che fanno sì che dall'esterno quello che è il proposto venga assimilato venga praticamente uno riconosciuto quindi io ehm ho facciamo un esempio delle eh facciamo un esempio concreto abbiamo eh io mi occupo di eventi di ritorno per italiani all'estero che vanno sono alla ricerca quindi fondamentalmente il turismo delle radici dove ehm si cercano le radici della propria storia ma questo vale anche per le radici e lo spirito dei territori quindi quando ehm io eh vivo l'esperienza io devo sentire un una risonanza con quello che mi viene proposto il che significa che chi lo propone deve essere bravo ad entrare da quelle porte perché noi i nostri sensi sono porte con l'esterno cioè effettivamente le orecchie sono porte dei suoni che ci arrivano dall'esterno la bocca è porta per qualcosa che ci arriva dall'esterno il tatto è qualcosa cioè i nostri cinque sensi e quelli che consentono di vivere con emozione sono quelle porte che dall'esterno fanno arrivare l'esperienza e ce la fanno riconoscere riscoprire risuonare dentro questa è la sfida del turismo emozionale cioè io prendo un'esperienza e te la faccio vivere con i sensi affinché tu possa vivere un'esperienza emozionale quella che eh resta indelebile nel tempo non è solo preparare della pasta fare della pasta insieme facciamo ecco se nella pasta io ci metto il valore emozionale della convivialità degli italiani il gusto e il piacere dello stare insieme perché rappresenta il grano saraceno cosa rappresenta le frise no non so qualcuno conoscerà io sono di origine pugliese qualcuno conoscerà le frise quelle allora ce ne erano col buco senza buco il buco serviva a portarsene in viaggio perché le mettevano con il filo di con lo spago e se le portavano in viaggio le bagnavano e le mangiavano come pane bene se noi riusciamo a riempire l'esperienza della storia italiana della dei valori che noi portiamo nel mondo e che ci vengono e che sono eterni e che ci vengono riconosciuti che fondamentalmente sono bellezza la convivialità è un bellezza dello stare insieme il piacere il gusto ecco noi riusciremo veramente a fare un turismo emozionale che nelle nostre corde dobbiamo solo impararle imparare a farlo uscire a trasmetterlo e questa è la nostra vita ecco impararlo brava Letizia mi hai portato poi sul concetto voglio dire finale di quella che potrebbe essere l'ultima la penultima domanda che ti vorrei fare e tu hai parlato giustamente stiamo parlando giustamente della proiezione futura io ma come tu stessa insegniamo insegniamo ai giovani e voglio dire abbiamo questa grossa fortuna forse di cercare di rimanere giovani perché siamo costantemente in contatto con i giovani in realtà però Letizia come vedi la formazione turistica in Italia perché questo è un altro argomento secondo me molto delicato io stesso sono docente in università ma poi mi occupo anche di un altro tipo di formazione più professionale più professionalizzante vedo ancora distante il mondo del lavoro dal mondo appunto della dell'accademia da questo punto di vista quali sono le tue interpretazioni per dare ai giovani che immagino siano tanti in questo momento in ascolto cioè delle idee un'idea di sviluppo un'idea di novità ecco anche da questo punto di vista allora io parto dalla mia formazione che è stata con americani quindi fondamentalmente io 12 anni fa ho iniziato a occuparmi di turismo portando però nel turismo una mentalità manageriale perché avevo alle spalle quasi 20 anni di azienda americana gli americani hanno una scuola di formazione molto rigida ma nello stesso tempo estremamente orientata alla qualità quindi ho imparato ho avuto la fortuna di lavorare con dei maestri della qualità e dell'eccellenza e ho capito poi soltanto negli ultimi anni che quell'eccellenza che io ho imparato a poter trasmettere era anche nella nel mio dna perché appunto come dicevamo inconsapevolmente tutti gli italiani essendo degli artigiani sono abituati a lavorare bene cioè hanno il gusto del produrre un prodotto unico ben fatto bello e ben fatto questo è l'italiano vero bello e ben fatto in qualunque cosa faccia quindi io partendo da questa scuola di qualità ritengo che in uno scenario attuale in cui c'è estrema improvvisazione c'è spesso incompetenza si debba prima di tutto puntare sulla qualità dell'insegnamento sulla qualità dei giovani insegnare ai giovani che nonostante la globalizzazione ognuno è unico e irripetibile e può veramente fare la differenza anche e soprattutto in campo turistico perché il turismo altro non è che è un l'arte dell'accoglienza fondamentalmente quindi come accolgo a casa qualcuno come accolgo in italia come riesco poi a creare quel ciclo esteso dell'esperienza che altro non è che il prima il durante il dopo come posso rendere la mia unicità e la mia competenza unica al punto da trasmetterla a chi arriva che ritornerà se io lo farò bene quindi i giovani oggi attraverso le tecnologie perché ricordiamo che la formazione è chiave per i giovani ma è anche chiave l'utilizzo delle tecnologie perché noi abbiamo i millennials che sono nati nella tecnologia il problema non è la tecnologia il digitale la realtà aumentata i visori che possiamo utilizzare per creare l'esperienza turistica ma è il modo in cui farlo è l'umanizzazione della tecnologia oggi si cerca rassicurazione dal viaggio oggi i clienti che a me avevano portato un viaggio di ritorno e che ritorneranno a maggio eccetera cercano ancora più accoglienza perché hanno bisogno di rassicurazione sul nuovo mondo perché noi stiamo attraversando un storico in cui stiamo passando da un mondo a un altro quindi i giovani che sono smarriti allo stesso modo perché i giovani consentono di dire io sono convinta avendo anche un figlio giovane che erano smarriti anche prima del covid e nessuno se ne accorgeva perché ormai li lasciavamo nel loro nelle loro logiche come se appunto loro fossero autonomi a prescindere perché con la con la tecnologia anzi li vedevamo anche molto avanzati rispetto ad altre generazioni ma i giovani hanno subito un uno smarrimento soprattutto i giovani diciamo dei dei genitori degli anni 80 hanno hanno avuto un forte smarrimento che li ha visti poi partecipi di un sistema scolastico che non spesso non è non mira la qualità gli stessi insegnanti che sono un po demotivati perché non non è più riconosciuta l'importanza del maestro l'importanza del di chi insegna e che trasmette qualcosa quindi i giovani vanno recuperati noi abbiamo una grossa opportunità oggi cioè di riprendere i giovani e soprattutto soprattutto quando pensiamo alle scuole turistiche pensiamo agli istituti superiori noi abbiamo pensiamo sempre che nei nell'alberghiero nel comune immaginario c'è l'idea che ci debbano andare i ragazzi meno talentuosi non è così anzi anzi cioè ci sono talenti e talenti cioè non è detto che chi ha la manualità sia inferiore tra virgolette a chi invece va al liceo classico ecco quindi noi dobbiamo ripartire dalla da riqualificare prima di tutto i talenti e da riconoscerli per poi passare anche ad un sistema meritocratico che l'italia purtroppo manca e la meritocrazia in qualsiasi livello di istruzione è la chiave per stimolare al migliorarsi perché se c'è un appiattimento l'appiattimento porta necessariamente all'appiattimento del risultato e porta alla mediocrità quindi io parto da questi presupposti quindi i giovani tra l'altro dopo il covid sono tornati molti giovani molti giovani sono tornati in italia quindi in tutte le età quindi noi possiamo riprendere la formazione dalla scuola turistica al master e alla e alla specializzazione post master abbiamo una grossa opportunità in questo senso spero aver risposto alla no assolutamente io vado quasi in chiusura perché sai che abbiamo dei tempi che sono sono le 10 10 quindi chiudo solo unicamente due parole due minuti perché tu sei un'assoluta protagonista oltre la crisi questo voleva essere anche il tema dell'incontro di oggi proprio due minuti per dirci ti faccio rimettere il cappellino dell'associazione perché una persona si dovrebbe associare e quali sono poi fondamentalmente le idee di sviluppo nel prossimo futuro ma proprio due minuti due grazie prima di lasciare poi magari l'opportunità delle domande ai nostri amici in ascolta allora sì premettendo che quello che io ho espresso lo porto completamente nell'associazione perché chiaramente quello che credo è che l'associazione possa rappresentare tutto questo quindi ognuno di noi sta dando questo il suo contributo e io credo fondamentalmente che associarsi in questo momento è trovare una casa ecco quella casa accogliente di cui parlavo è la stessa associazione cioè non sentirsi soli perché la solitudine porta veramente conseguenze molto deleterie sappiamo che i problemi psicologici sono quelli che poi saranno la nuova emergenza sanitaria quindi non sentirsi soli nell'associazione turismo per l'italia c'è posto per tutti per tutta la filiera e c'è un la possibilità anche di di esprimersi soprattutto chi ha nuove idee eh invitato ad arrivare scriversi ehm per per iscriversi è molto semplice andare sul sito www.turismo per l'italia.it aderisci quindi ci sono varie modalità eh anche di di sostegno eventualmente minimo sostegno per le spese che sopportiamo però eh c'è anche la possibilità di scriversi come simpatizzanti per noi non è importante quello è importante avere eh una un essere voce e dare voce quindi stiamo costituendo gli organi di eh organizzativi appunto la consulta tecnica che è già stata avviata e il comitato delle regioni quindi siete i benvenuti perché c'è una casa che vi aspetta se avete idee istanze quindi iscriversi eh quando si parla di stare insieme di aggregarsi vuol dire darsi forza e quindi questo è il valore aggiunto dare un'unica voce al turismo benissimo io ti ringrazio grazie o leggo quello che era il claim tutto sommato di questo incontro era insieme oltre la crisi idee proposte per superare la frammentazione dell'offerta Italia e cui tu sei stato oggi una grande protagonista di questo io ti ringrazio in modo particolare lascerei la parola a Maurizio testa che vedo ricomparire per sentire se ci sono delle domande a te Maurizio la linea allora grazie a Letizia per questo bellissimo intervento grazie a Maurizio per eh la tua grande capacità di di moderare di coinvolgere eh al momento non ci sono domande eh anche perché non sono sicuro che sia chiaro a tutti come si fa perché noi siamo sulla piattaforma zoom e eh di solito si fanno le domande dalla piattaforma invece in in questa integrazione con la fiera Beatles le domande vanno poste con un bottone che sta nella nel pannello da cui siamo entrati ecco per cui lo dico se per caso arrivassero delle domande last 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 minute allora Letizia come avete capito oltre ad avere una grande esperienza come appunto dirigenza e esperienza multinazionale quindi eh nell'industria che ti dà processi e metodi ecco il grande tema di portare processi e metodi nel turismo è concreto e attuale in molti settori ma in altri settori come è stato detto da da Letizia c'è bisogno di portare appunto qualcosa in più insomma perché spesso vediamo eh specialmente appunto nel turismo di trattenimento c'è appunto improvvisazione e mentre chi compra vuole essere garantito che non ci sono sorprese e cose e cose strane ecco sul tema delle emozioni confermo con l'importanza ma solo diciamo visto che mi avete tirato in causa eh diciamo noi sapete che abbiamo questo sistema come artes dello story leading experience che si basa sul tessuto delle emozioni per cui nei nostri corsi insegniamo la dinamica delle relazioni lo lo prendiamo diciamo non l'abbiamo inventato noi sono cose imparate anche da parte nostra eh da vari autori eccetera ma tra l'altro così posso fare un piccolo spot alle dodici e trenta io parlerò proprio di queste cose per cui anche come si governano le emozioni all'interno di un percorso esperienziale perché l'aspetto di fare eh è una cosa importante ma l'aspetto delle emozioni è centrale esattamente come ha detto come l'ha detto eh Letizia molto bene allora se non ci sono domande mi dicono che non ce ne sono io ho anche diciamo siamo arrivati alla conclusione del nostro vediamo un attimino vediamo un attimino forse c'è una domanda eh allora avete una la eh una partecipante la Maria Rita Pola che dice complimenti alla dottoressa Sinisi sono completamente d'accordo su tutti i punti benissimo quindi abbiamo il consenso del pubblico e certamente abbiamo centrato in questo intervento eh il tema che era appunto scritto cioè la frammentazione dell'Italia che è inattiva e storica no? Campanile nasce eh 500 anni fa con tutta la politica sugli oratori eccetera c'è un certo motivo storico e l'Italia è lunga e stretta allora l'Italia non è la Germania non è la Francia che hanno le pianure la logistica è nata in Francia per due motivi perché avevano le pianure e perché hanno fatto una grande armata forse questi non tutti lo sanno ma muovere 600.000 soldati non è una cosa facile per cui in Francia hanno imparato a fare cose che noi facciamo fatica perché il nostro territorio è molto diverso da qui la frammentazione che è il petrolio che noi abbiamo che è la ricchezza al tempo stesso però è anche la nostra debolezza perché facciamo fatica a fare le cose insieme quindi la grande sfida è eh trovare logiche di aggregazione di collaborazione e io ringrazio appunto Letizia e ehm anche da un saluto caro a Stefano Crugnola amico Stefano Crugnola eh per questa iniziativa che hanno voluto lanciare che anch'io ho potuto conoscere meglio diciamo oggi con questa bellissima intervento di Letizia c'è bisogno di unire e fare reti di reti no perché noi siamo matrioschi di reti siamo filiere che si collegano è una predisposizione probabilmente anche mentale che noi dobbiamo avere che forse non è nel nostro bagaglio storico ma questa capacità di collaborare nel nostro piccolo diciamo con queste appunto protagonisti territori con questo format vogliamo dare proprio come dire creare un involucro per mettere insieme accogliere tutti quelli che stanno innovando collaborando con relazioni nuove per cui vediamo se per caso è arrivato qualcosa no eh un attimo solo ecco sì forse sì eh allora c'è una domanda eh c'è eh c'è una domanda eh da Paolo Ascoli eh quindi un minuto per rispondere alla domanda e poi ci saluteremo ci si può iscrivere come singoli o anche come organizzazione del territorio? ci si può iscrivere come singoli perché siamo un'associazione di persone eh di persone fisiche però ehm possiamo anche entrare in contatto come come stiamo già facendo con associazioni DMC quindi con organizzazioni del territorio proprio in virtù della costituzione degli organi eh tra cui il comitato delle regioni quindi se ad Ascoli avete eh un'associazione che fa appunto che organizza i territori eccetera siamo ben lieti di entrare in contatto quindi potete scrivere tranquillamente ehm agli indirizzo vi do quello email diciamo dell'organizzazione che è segreteria.org chiocciolaturismoperlitalia.it o direttamente al presidente presidenzachiocciolaturismoperlitalia.it in ogni caso entrate in contatto e noi saremo ben lieti di di parlare insomma di di contattarvi eh di 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 vedere insomma che modo collaborare. Grazie. 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 Grazie Letizia. Allora diciamo che c'è posto per tutti una associazione inclusiva e eh oggi dove dobbiamo unire perché dividere a rompere si fa presto. Unireci vuole tanta fatica. Grazie ancora Letizia. Un abbraccio a distanza. Grazie a Maurizio Boiocchi, professor Bonizio Boiocchi per il suo intervento. Arrivederci e buona giornata a tutti. Salve. Ciao.